Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è domenica 14 ottobre 2018 e nel video di oggi voglio guardare con voi brevemente che cosa sta accadendo nel mondo delle cripto nelle ultime 24-48 ore, dare un'occhiata alla chart di Bitcoin e vedere che cosa sta succedendo presso i Bitcoin che si sta leggermente riprendendo nelle ultime ore e andare a vedere insieme un po' di notizie rilevanti che sono uscite nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Prima di iniziare ovviamente grazie sempre a chi si iscrive al canale, chi ci supporta e chi condivide i nostri video, per cui grazie mille per contribuire alla nostra crescita. Nel caso in cui non foste iscritti mi raccomando cliccate iscriviti, la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo un nuovo video sul mondo delle cripto, Bitcoin e Blockchain. Mi raccomando ragazzi, i nostri non sono mai consigli di investimento, ovviamente per cui se volete investire fate sempre le vostre valutazioni, molto importante. Guardiamo velocemente i CoinMarketCap, nella giornata di oggi abbiamo una capitalizzazione praticamente invariata, 200 miliardi, pensate che l'ultime high a livello di capitalizzazione è stato 830 miliardi raggiunto a gennaio, un volume di scambi basso rispetto ai volumi che ci sono in settimana, per cui 9 miliardi di scambi oggi, e una Bitcoin Dominance al 54%. Tendenzialmente i weekend sono sempre, sono dei momenti in cui essendoci dei volumi di scambi abbastanza bassi, sono giorni in cui ci potrebbe essere maggiore volatilità dei prezzi. Non è il caso oggi perché abbiamo un mercato praticamente invariato, con Bitcoin che rispetto a ieri prende uno 0,19%, ma tendenzialmente tutto il mercato praticamente invariato, Ethereum meno 24%, Ripple meno 0,24%, Bitcoin Cash meno 0,41%, e quindi in qualche modo il mercato resta fermo. Vediamo se c'è qualcuno che performa in maniera particolarmente interessante da segnalare, Polimat continua a crescere negli ultimi giorni, più 8,83%, GX Chain più 8,73%, Comodo più 7%, PVEX più 7%, ION più 6%, quindi interessanti queste crypto che crescono, invece da segnalare in negativo, Nexo, Bitcoin meno 4%, Bitcoin delistata da Binance qualche giorno fa, continua a perdere terreno, Aurora, Tezos e Basic Attention Token che performano un pochino peggio rispetto alla media del mercato. Andiamo a vedere la chart di Bitcoin per capire che cosa sta succedendo. Allora, qualche giorno fa, precisamente l'11 di ottobre, abbiamo trovato resistenza sulla parte superiore di questo grande triangolo ribassista che abbiamo disegnato che ci costringe al suo interno dal 2018 e quindi il prezzo di Bitcoin è sceso da 6.630 dollari in una giornata fino a trovare supporto ai 6.200. Negli ultimi tre giorni, come vedete, sia il 12 che il 13 che il 14 che oggi, Bitcoin sta leggermente recuperando e sembra che abbia trovato questa trendline rialzista ascendente che potrebbe portarci a schiantarci nuovamente con la parte superiore di questo triangolo per poi eventualmente riscendere. Secondo me potremmo rimanere all'interno di questo triangolo ancora per un po' di tempo, sembrerebbe che il triangolo si vada a chiudere il 31 di ottobre, quindi sicuramente, secondo me, per un'altra settimana potremmo rimanerci dentro e vedere il prezzo di Bitcoin rimbalzare al suo interno. Interessante che siamo abituati a vedere Bitcoin che ci regala grandissima volatilità ma negli ultimi settimane sappiamo bene che il prezzo di Bitcoin è sempre più o meno fermo intorno ai 6.200, 6.300 e 6.400 e quindi ci sono dei meme interessanti che circolano su internet che raccontano come è Bitcoin in qualche modo sia la nuova stablecoin perché il suo valore è in qualche modo stabile e diverso dalle oscillazioni a cui ci ha abituato nel 2018 e da sempre sostanzialmente. Guardiamo un po' le notizie che ho scelto per voi. La prima riguarda un listaggio di Coinbase per cui Coinbase è la piattaforma un po' leader nel garantire il primo accesso a molti utenti al mondo delle cripto perché è una piattaforma molto semplice da usare e Coinbase ha listato di recente una nuova cripto che si chiama Zero X Protocol con la sigla ZRX. Coinbase aveva detto già a marzo che stava valutando l'inserimento di alcune nuove cripto in particolare alcuni IRC20 token per cui token sviluppati sulla blockchain di Ethereum e aveva detto che stava valutando esattamente Zero X, Cardano, Stellar e Zcash mi sembra e esattamente la promessa è stata mantenuta e quindi Zero X Protocol è stato listato su Coinbase qualche giorno fa precisamente non proprio su Coinbase ma su Coinbase Pro che è il XGDAX che è l'exchange di Coinbase per cui voleste comprarlo su Coinbase lo trovate su Coinbase Pro potete accedere a Coinbase Pro esattamente con le stesse credenziali che utilizzate per Coinbase stiamo attenti perché ovviamente se Coinbase ha mantenuto le promesse riguardo a Zero X è probabile che le mantenga anche con le altre cripto che avevamo menzionato per cui Cardano, Basic Attention Token, Stellarumens e Zcash potrebbero essere eventualmente cripto successivamente listate su Coinbase notizia invece che riguarda Cardano questa è una notizia che crea un po' di FUD per cui Fear, Uncertainty and Doubt quindi è una notizia un po' negativa perché cosa succede? ci sono un po' di dissidi interni al progetto Cardano in particolare Charles Hoskinson che è il fondatore di Cardano e anche ex cofondatore di Ethereum in qualche modo leader del progetto Cardano insieme a Ken Kodama che è un altro cofondatore di Cardano hanno mandato questa lettera aperta alla Cardano Foundation che è un'istituzione, un organo che ha l'obiettivo di espandere l'utilizzo della blockchain di Cardano chiedendo che il presidente di questa Cardano Foundation precisamente Michael Parsons dia le dimissioni perché ritengono che la Cardano Foundation non stia facendo in maniera corretta il suo lavoro di appunto divulgare l'utilizzo della piattaforma Cardano e quindi c'è un po' di dissidio interno al progetto e vediamo che cosa succederà sicuramente notizie non positive per il prezzo tutta questa incertezza sicuramente non aiuta terza notizia questa presa da Cointelegraph riguarda invece una crypto di cui si parla tantissimo molto forte a livello di marketing esattamente Tron è un progetto basato a Singapore ed è una piattaforma blockchain basata a Singapore ma con un focus sul mercato cinese e l'annuncio è non ufficiale e dice che Tron sta a chiuso una partnership con il più grande più grande motore di ricerca cinese che si chiama Baidu che è il competitor di Google però di fondazione cinese e si tratta di una notizia che se fosse confermata e se fosse vera ovviamente creerebbe moltissima speculazione sul progetto Tron perché ovviamente un progetto come una partnership con Baidu che è il più grande motore di ricerca cinese e il secondo al mondo darebbe un fortissimo hype al progetto Tron però in questo momento è una notizia che non è stata confermata ma è stata pubblicata da Cointelegraph il fondatore di Tron che è Justin Sun è molto forte a livello di marketing e di comunicazione tanto è vero che Tron è uno dei progetti che ha maggiore hype intorno a sé quindi molti molti parlano di questo progetto in realtà a livello pratico non è ancora stato concluso molto c'è stato il lancio della Mainnet qualche mese fa e quindi c'è questa potenziale partnership con Baidu stiamo a vedere se verrà confermata perché in questo momento non è confermata né da Tron né da Baidu stesso notizia successiva invece riguarda la potenziale adozione di criptovalute come sistema di pagamento in particolare qua vediamo che Bitcoin Jesus che altro non è che uno dei principali sostenitori di Bitcoin Cash e uno delle persone che ha promosso al massimo la fork tra Bitcoin e Bitcoin Cash che si chiama Roger Ver o anche detto chiamato quello pseudonimo Bitcoin Jesus praticamente dice che presto Bitcoin Cash verrà utilizzato cioè si potrà utilizzare Bitcoin Cash per pagare all'interno di grandi negozi della grande distribuzione qua per esempio menziona Walmart piuttosto che Home Depot in cui sarà possibile per i clienti pagare utilizzando Bitcoin Cash interessante perché scusate oltre che Home Depot e Walmart c'è Walgreens e Safeway come potenziali store che accetteranno Bitcoin Cash come sistema di pagamento una notizia interessante perché si può aprire una piccola parentesi su Bitcoin Cash nel caso in cui non lo sapeste tra la community di Bitcoin e la community di Bitcoin Cash c'è un po' di astio un po' di dissidi tanto è vero che coloro che hanno promosso la fork di Bitcoin Cash ritengono che il vero Bitcoin in qualche modo come lo vedesse Satoshi Nakamoto in realtà non è Bitcoin ma Bitcoin Cash e è anche vero che i proprietari del dominio Bitcoin.com sono i coloro che appunto Roger Ver che spingono più Bitcoin Cash infatti se voi andate sul sito Bitcoin.com potete scaricare Bitcoin.com che è un wallet il quale però è più focalizzato sull'utilizzo di Bitcoin Cash piuttosto che di Bitcoin quindi c'è questo dissidio con la community di Bitcoin Cash che agisce in maniera un po' poco simpatica perché utilizza il sito Bitcoin.com che potrebbe essere il sito che molte persone non consapevoli di questo di questo dissidio potrebbero utilizzare per magari acquistare Bitcoin o informarsi su Bitcoin la prima volta ma in realtà loro promuovono più l'utilizzo di Bitcoin Cash quindi interessante nel caso non lo sapevate spero che sia una cosa interessante dateci anche voi un'occhiata al sito Bitcoin.com e fatemi sapere altra notizia precisamente l'ultima riguarda la diffusione di un progetto molto interessante collegato alla criptovaluta che si chiama BAT o anche Basic Attention Token ed è una criptovaluta che può essere in qualche modo spesa in collegamento ad un web browser che si chiama Brave la notizia riguarda l'adozione di questo web browser per cui magari noi utilizziamo Google Chrome piuttosto che Mozilla Internet Explorer questo web browser che si chiama Brave ha raggiunto 4.6 milioni di utenti attivi ogni mese ed è una crescita molto forte perché è passato da averne scusate un milione punto 4 a febbraio 2018 a 4.6 milioni già ad ottobre 2018 quindi in meno di 10 mesi ha praticamente quadruplicato il numero di utenti messili questo web browser è interessante questo progetto perché intanto è stato sviluppato dai due dei fondatori di Mozilla per cui gente che ne sa di come si fanno i motori di ricerca e perché rivede un po' quelli che sono i paradigmi del digital marketing e del web advertising per cui coloro che in qualche modo guardano la pubblicità vengono remunerati tramite il BAT token per dedicare la loro attenzione a guardare dei banni pubblicitari o la pubblicità e quindi rivede un pochino i paradigmi tradizionali della della pubblicità online BAT personalmente è un progetto che mi piace molto ha già 4 milioni oltre 4 milioni e mezzo di utenti questo web browser per cui secondo me come investimento sicuramente safe BAT può essere sicuramente un'ottima scelta ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi ovviamente grazie per aver dedicato 10 minuti della vostra giornata per guardare questo video ci vediamo al prossimo appuntamento ciao